Perché in questi ultimi anni la Castellana è stata un po' ai margini e se c'è questo fermento di qualcuno che vorrebbe spostarsi per andare in Ascoli, hanno le sue ragioni, però dobbiamo riflettere un attimino, è una riflessione che faccio al Presidente della provincia e alla Presidente della regione che sono due persone che io stimo, persone preparate attenti per il territorio e dico cerchiamo insieme, cercate insieme con gli assessori di non trascurare questa fetta di territorio che è la Valla Castellana perché è importante non si può perdere oggi un pezzo di territorio di 131 km quadrati perché qualcuno si sente abbandonato.